Allora innanzitutto buongiorno a tutti da parte del sottoscritto Vincenzo Viglione che insomma conoscete abbastanza bene da parte del meetup di Cricignano di Aversa. Stamattina praticamente abbiamo deciso di scendere un attimo in piazza perché fino ad oggi come avete potuto notare pure da un po' di comunicati stampa, un po' della comunicazione che abbiamo mandato in giro. Spesso nelle settimane scorse, sono passate pure due anni, sarebbe pure il caso di smetterla con questa richiesta di perché non avete fatto l'accordo col PD. Poi dopo ve lo facciamo spiegare perché non è stato fatto l'accordo col PD. Allora l'idea era quella di rispondere con dei concetti chiari che possono dare la testimonianza di come una forza politica che due anni fa è arrivata in Parlamento diventando il primo partito da solo quando ci è arrivata, non come coalizione, come è possibile strutturare un'attività politica tra virgolette secondo qualcuno dai inesperti e come è possibile portare a casa risultati importanti nonostante si sia forza di opposizione. Troppo spesso negli anni ci hanno fatto credere che coloro che potevano governare un paese, coloro che potevano mettere il naso all'interno di procedure che riguardano il bene comune fossero solo ed esclusivamente le forze che stanno al governo. Allora è passata l'idea che per poter fare qualcosa bisognava stare al governo. Oggi invece noi abbiamo delle testimonianze chiare. La prima ve la farò dare direttamente dalla voce di un nostro portavoce nella Camera che è Salvatore Vicillo, capogruppo del Movimento 5 Stelle all'interno della Commissione Ambiente alla Camera ed è praticamente per darvi l'idea di come delle procedure di legge possono andare avanti semplicemente sulla spinta di un'opposizione che ha dalla sua l'esigenza di un territorio come quello della Campania. Tutti noi sappiamo che cos'è terra dei fuochi, tutti noi sappiamo che cos'è l'inquinamento ambientale in questo territorio. Allora c'è qualcuno che con perseveranza e con caparbietà due anni fa ha cominciato questo lavoro, ha costruito un progetto di legge che oggi aspetta solo di essere approvato per diventare norma dello Stato in maniera definitiva e ve lo faccio spiegare direttamente dalla sua voce che non vedo tra virgolette esperienze. Eccolo qua. Allora da parte mia un benvenuto a Salvatore che è un amico prima di tutto, poi abbiamo un'esperienza politica in comune. Salvatore, come è possibile praticamente arrivare ad un risultato concreto pur essendo forza di opposizione? Amica, ci crede ancora qualcuno dell'accordo del PD? Buongiorno, perché ormai non ci crede più nessuno e finalmente ci siamo levati da mezzo a questa cosa che ci siamo portati per troppo, troppo tempo dietro. Perché non abbiamo fatto l'accordo del PD, il PD cambiava tutto, avete detto che dovevano andare con Berlusconi, purtroppo non c'erano alternative. balle, tantissime balle, una su tutte era ovviamente quello che ha fatto Persani, lo ha detto chiaramente in un convegno alla persa dell'unità. Sono mica matto che voleva fare il governo con Grillo, lui voleva quei 10-15 voti per far partire il suo governo. Allora una forza politica che ha avuto il 25%, noi abbiamo detto guarda, dacci qualche conferma in più, dacci, non lo so, inizia a tagliare i 42 milioni di euro di rimborsi elettorali che noi abbiamo rinunciato. Inizia a togliere i stipendi parlamentari perché chi vi parla ha rinunciato a 100 mila euro dei propri stipendi parlamentari. Inizia a darci qualche informazione in più dei 10-11 voti che ti servono. Guardate caso, si gira un attimo dall'altra avanti, forse è meglio dialogare con qualcun altro. Il dialogo si avviene su qualcosa di concreto, se io e te parliamo due lingue differenti, credo che difficilmente riusciamo a dialogare. Se noi abbiamo una visione diversa dell'Italia, se abbiamo una visione diversa della regione, difficilmente riesco a dialogare con qualcuno che la pensa diversamente come me. Il dialogo è sì una specie di compromesso, dire io la penso in un modo, tu la pensi in un altro, arriviamo a un punto e arrivo appunto alla mia legge sui reali ambientali. Ma significa avere di base qualcosa di uguale, altrimenti è inutile parlare con qualcuno che non ti ascolta, che vuole tutt'altro dalla tua visione politica. La legge sui reali ambientali era la proposta più semplice del mondo, chi vive in questi territori sa esattamente che chi è inquinato questa terra non ha mai pagato, chi ruba una mila oggi va in galera, chi inquina no. Allora questa persona che viene da questo territorio, che ha visto i peggiori scempi ambientali, i peggiori disastri ambientali, ha fatto una proposta semplicissima, chi inquina paga. E finalmente alla Camera dei Deputati, poi al Senato e speriamo il 27 aprile che sia legge dello Stato che chi inquina questo territorio e tutto il territorio italiano finalmente paghi, perché non è possibile che questa terra non ha mai visto nessuno pagare per la distruzione che è avvenuta. E allora, oltre alla proposta di legge sui reali ambientali, ovviamente chi controlla che questa legge domani sia veramente efficace? Il corpo forestale dello Stato. E cosa vogliono fare al corpo forestale dello Stato? Lo vogliono tagliare. Cioè chi fino a questo momento ha portato i maggiori risultati, il contrasto a chi ha ucciso questo territorio, vogliono metterlo da parte. Non me ne vogliono i militari, ma vederli fermi, loro, su una camionetta, a guardare che passano e non far nulla. Ci saranno sicuramente quelli che hanno fatto tanto, ma ci vuole chi entra in questo territorio e con intelligenza sa capire esattamente dove va a sversare, dove sono i piani criminali che vanno a distribuirsi. Quale intelligenza di capire un territorio e capire dove sono i traffici e dove vanno? Allora se vuoi cancellare il corpo forestale dello Stato significa che vuoi dare una mano a chi vuole uccidere questo territorio. Altro punto fondamentale, e lo ripeto spesso perché arrivo da Giuliani in Campania, c'è un campo di ecopalle che sono 360 campi e la regione Campania ha avuto una grande idea, vuole incenerirli, bruciarli. Allora da una parte si vuole attuare l'inquinamento ambientale e quindi far pagare chi inquina, dall'altro vuole far incendiare 360 campi di palloni, di coperti, di ecopalle in un inceritore. Allora insieme a Vilma Moronese, alla Commissione Ambiente, abbiamo attuato un piano alternativo per far smaltire quelle palle. Vi ho detto apriamole perché non è rifiuto, è materia. E materia significa no denaro, significa sviluppo, significa lavoro, significa far venire i migliori esperti al mondo, farli studiare insieme ai nostri studenti universitari e far capire cosa vogliamo da quelle copalle. Significa che dal punto più basso della nostra terra poter risalire, perché se conoscete, andate su Google e vedete davvero e capirete esattamente di cosa sto parlando. Quello era l'esempio lampante dell'emergenza ambientale, cioè un'emergenza si apre e si chiude Taverna del Re, per far capire poi ai vari commissari straordinari, ai vari presidenti del Consiglio che loro avevano risolto chiuso un'emergenza. Un'emergenza ambientale non può durare vent'anni, significa che quell'emergenza era stata creata ad ordo, ad hoc, per far capire e far arrivare soldi, perché l'emergenza di portasolti. L'emergenza era quella, far aprire e chiudere discariche. E noi da sempre abbiamo portato il nostro piano alternativo, oltre a quello per Taverna del Redi, un piano alternativo per non far aprire discariche e generatori. Ovviamente parliamo della raccolta differenziata, di rilanzamento, dei siti con postaggio che sono undici, chiusi, tutti in campagna. Trattamento meccanico manuale. Ci sono aziende che arrivano al 99,9% di raccolta differenziata, ma nessuno ve lo dice. Vi hanno fatto passare per gli ignoranti che non sapessero fare la raccolta differenziata. Vi hanno fatto passare con quelli sporchi. Invece erano tutte emergenze che avevano creata tarte per vendervi poi all'estero e direzze, non far mancare la raccolta differenziata. Questo vi hanno vissuto. Questa era la loro idea di Campania. Oggi abbiamo un progetto che è il Movimento 5 Stelle e che non nasce oggi. Nasce da questi quattro pazzi che cinque anni fa si candidarono alla regione Campania. Questi cinque pazzi, che adesso sono molti di più, hanno creduto in un progetto alternativo di Campania, di regione, di città. Lo stanno dimostrando in tutti i loro esseri parlamentari, consiglieri regionali, sindaci. Prima eravamo semplici attivisti. Erano semplici attivisti come me che si mettevano davanti ai camion per dire che sta succedendo un altro disastro ambientale. Ovviamente potevi fare il passaggio successivo, dimostrare esattamente quello che dicevi fuori dall'istituzione. Eravamo quattro pazzi. C'era anche Vilma Moronese, mia collega, lei al Senato, io alla Camera dei Deputati. Persone che hanno avuto quella scintilla. Quella scintilla che abbiamo visto man mano crescere con 160 parlamentari, tantissimi consiglieri regionali, mille e più consiglieri comunali, tantissimi sindaci. Ma la nostra rivoluzione forse è più lenta. perché è facile mettere una croce su un simbolo e poi tornarsene a casa e dicere che sta prima che fanno. Dal momento 5 stelle vuole che ogni giorno voi vi attivate. Perché la X sul simbolo il giorno dopo delle elezioni non serve a niente. Io domani devo sentire le persone che vengono a me e dicere che adesso devi fare questo. Oggi ti porto questo e domani tu lo devi fare. Se non c'è questo controllo su chi avete eletto, signori torniamocene a casa. Torniamoci da casa perché non cambierà mai, mai nulla. Io voglio la sensazione di essere controllato. Io voglio la sensazione di capire che sto dando al territorio un input. Perché non voglio che il territorio sia dormiente. Non voglio che il territorio dica stasera e non voglio che il territorio sia cosciente di dove vive. Io portavo i bambini sulle discariche e gli dicevo questa è la tua realtà. Perché qualcuno te l'ha nascosto. Io gli dicevo questa è la tua terra. L'hanno martoriata, l'hanno uccisa, l'hanno distrutta. Sta a te adesso decidere se chiudere gli occhi, addormentarti in un sonno profondo e dire no tutto questo non è vero. O sta a voi svegliarvi tutti i giorni, guardarvi attorno e dire che questa è la vostra terra. Grazie.